oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro 8 di torino buonasera a tutti io mi chiamo andrea grippo e oggi vi leggerò una storia scritta da me il signor niente conosci il signor stern lascia che te lo presenti il signor stern è un tipo calmo solitario soprattutto quando la testa tra le nuvole perché gli piace pensare lui lavora l'indispensabile per poter vivere e la sua casa non era né arredata né decorata perché pensava che non gli servisse quasi niente un giorno mentre il signor stern guardava dal finestra il paesaggio in città sentì qualcuno bussare alla porta andato ad aprire e vide un uomo che gli disse ciao amico tu non mi conosci ma io sono il signor niente visto che anche a te non serve un granché ho pensato di stare da te perché per me è il posto perfetto e mi sento a mio agio bene disse il signor stern resta se vuoi ma io non lavorerò di più per sfamare anche te non ti preoccupare io vivo di niente tutto ciò che mi serve è il nulla e così cominciarono a convivere insieme il signor niente presto diventò sempre più grasso dato che si nutriva di niente e anche così grande da occupare la casa era così grande che il signor stern non riusciva ad entrare e dovette uscire così decisi di andare a fare una passeggiata al parco vide un sacco di gente fare baldorie e vide i fuochi d'artificio in cielo sembra una festa io non ero mai stato una festa pensò il signor stern era così incantato che pestò il piede ad una ragazza ai stern la guardò e le chiese scusa non si preoccupi l'altro piede a posto disse lei quando vede la ragazza si disse che ragazza graziosa e che pettinatura originale quando furono lontani dalla gente lui le chiese un appuntamento dopo pochi mesi stern l'amava così tanto che le chiese di andare a vivere con lui quando la ragazza vide la casa di stern per la prima volta non poter credere ai suoi occhi ma non hai niente solo una miserabile lampadina ma come puoi vivere così allora stern pensò ha ragione qui non mi serve un granché ma forse lei non piacerà stare tutto il giorno a guardare la finestra così signor stern cominciò ad immaginare un parco di direttimenti per guadagnare dei soldi dove insegnare ai bambini a contare se hai la montagna rosso numero 3 andavi alla numero 6 ottieni 9 e se andavi alla giostra 2 alla giostra 5 arrivi alla giostra 7 grazie a questa brillante idea stern aveva abbastanza soldi per decorare l'intera casa iniziò con le tende il tappeto un divano la tv i quadri eccetera e man mano che arredava la casa notava che il signor niente si stava rimpicciolando si stringeva sempre di più fino a scomparire quando finì di arredare la casa chiamò la sua innamorata per fargliela vedere chiudi gli occhi le disse e una volta arrivati lei è rimasta sbalordita stern è incredibile non aveva neanche riconosciuto il posto e aveva ragione era molto bella e visto che per il signor niente non c'era più spazio era svanito nel nulla il signor stern lo ricorda ancora con affetto e gli è grato perché se il signor niente non avesse riempito ogni angolo e fessura della casa lui non sarebbe uscito non sarebbe stata ad una festa e non avrebbe mai incontrato una ragazza così graziosa con cui adesso vivono felici per sempre fine grazie per aver ascoltato questa storia e se siete nuovi al canale cliccate sulla campanella iscrivetevi e lasciate un commento se vi è piaciuto grazie e buonanotte ciao a tutti io sono alberto femmia e oggi vi leggerò da questo testo in radio nuovo che si fa chiamare renato izzo iniziamo a leggere renato izzo campo basso 15 giugno 1929 roma 30 luglio 2009 è stato un attore doppiatore direttore del doppiaggio sceneggiatore italiano nato a campo basso da famiglie proveniente da calvi risolta caserta e grumo levano napoli era il secondo degli otto figli del prefetto romolo izzo e di giuseppina travanti renato izzo è capo stipite di una tra le più celebri famiglie del doppiaggio italiano dal matrimonio con liliana d'amico 19 agosto 1931 sono infatti nate le quattro figlie credo che si fanno chiamare le sorelle izzo rossella e simona sono gemelle fiamma e giuseppina però il nome è un po lungo la loro famiglia le hanno fatto chiamare giuppi e inoltre lo zio di loredana di dicosia è morta a roma il 30 luglio 2009 all'età di 80 anni izzo è stato lo scopritore di tanti importanti doppiatori tra i quali massimo lodolo claudio catani tonina colla paolo buioni stefano benassi per la liberatori massimo corvo mavi felli e francesca e francesca draghetti e francesca draghetti e inizialmente a socio della cid poi della cid e infine fondatore nel 1980 della società di doppiaggio gruppo 30 oggi chiamata puma s2 e gestita dalla moglie e dalle figlie e direttore di doppiaggio di oltre mille film tra i quali apocalypse now di francis ford coppola e taxi drive di martin scorsese nel 1995 vinse il riconoscimento leggio d'oro direzione del doppiaggio nel 1900 nel 2007 vinse il primo il premio alla carriera dal gran premio internazionale del doppiaggio e al gran galà del doppiaggio di romis didi o per meglio dire direzione del doppiaggio questo è tutto quello che avevo quindi ragazzi o qualsiasi cosa o persone che non conosco da tutte le parti quindi ciao a tutti aglietzo buon pomeriggio a tutti io sono francesco e io sono simone e lui davide e oggi per il laboratorio speed hub leggeremo harry potter e la pietra filosofale oppure la filosofia della pietra ecco gelatine tutti i gusti più uno tutti i gusti per davvero e c'è anche menta piperita e cioccolato e c'è anche spinaci fegato e trippa oh george giura che ne ha trovata una al gusto di caccola cioccolane non saranno mica rane vere è solo un incantesimo ma solo le figurine che contano veramente in ogni confezione ce ne sono una strega e un mago famoso e io ne ho circa 500 oh ho detto ah questa è illa fanno solo un salto come si deve ho trovato silente io ne ho avrei sei di lui ehi è sparito beh non puoi pretendere che resti lì tutto il tempo tutto il giorno no solo un pochino a proposito lui è crosta patetico vero solo un pochino fred mi ha insegnato a farlo diventare giallo vuoi vedere si per qualcuno ha visto un ospo un ragazzo di nome nebile l'ha perso no oh state facendo magia vediamo allora per il sole splendente per il fior di corallo stupido topo diventa giallo sei sicuro che sia un vero incantesimo? beh non funziona direi naturalmente anch'io ho provato a fare alcuni semplici e mi sono riusciti sempre per esempio oculus riparo oh va meglio dico bene? ho vinto tutte le cavalette tu sei Harry Potter io sono Emione Gregor e tu sei? Ron Weasley piacere mi conviene indossare le vostre divise credo che manchi poco l'arrivo oh io lo sporco sul naso ah tu puoi questo lo sapevi? no no proprio qui proprio qui no qui vabbè bene ragazzi questo è stato il nostro motore speed hub e ci vedremo al prossimo incontro e ricordatevi sempre non fate mai le cavallette appunto non mancate ciao ciao bestia vi guardi un leviosa incantum leviosa le guardi un leviosa salve io sono Angelo io sono Elena e oggi vi facciamo sentire un pezzo delle cronache di Narnia ti nascondimi per me no io cioè io io cioè io io stavo solo non volevo spaventarti se non sono in iscritto posso chiederti che cosa sei? io sono io sono un fauno e invece tu sei per caso una specie di nano senza barba io non sono un nano sono una bambina e se vuoi saperlo sono anche la più alta della mia classe vorresti dire che tu sei una figlia di Eva? beh la mia mamma si chiama Ellen sì 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 però tu sei devi essere umana sì ma certo e questo è tutto grazie di averci ascoltato buongiorno a tutti noi siamo Laila e Mariangela e oggi vi fare vi reciteremo la scena 1 di io e Zio Buck togli la cartella dal tavolo si mangia lì sopra si mangia sui piatti non dire stronzate Maisie farò la spia hai detto stronzate stronzate non è una brutta parola oh davvero? credevo che fosse una bestemmia no ti confondi con merda ah è vero grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata